ciao a tutti eccoci in questo nuovo video di fifa mobile oggi siamo qui per l'halloween day sempre e quindi dobbiamo fare questo subito perché scade fra un minuto si chiama bu non lo so in che senso è una figata cioè non devo colpire quel volto ok ho capito fammi tirare subito pensavo che era più difficile comunque grande dai grandissimo andiamo finito subito questo siamo continua o mio dio con la faccia che fa questo proprio dopo ora abbiamo siccome siamo per alunni sempre ma un altro pacchetto facciamo un po di gol da urlo facciamo solo due volte se ci riusciamo bene se no non fa niente ecco grande mi arrabbio ora mettila dentro no 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 è riuscito fuori e me l'ha dato comunque è picco noi facciamo apri dopo pure questo un attimo ma abbiamo riscaldamento esercizi giocatori in forma facciamo giocatori in forma si che schifo che schifo ecco sicuro non è questo almeno sul serio ecco 4 di bull grandissimo che gol epico vai facciamo continuo facciamo questo dopo facciamo anche eroi squadra vai ah è complicato e se ti mi carti qua però io non mi sono mi cartato grandissimo continuo ok ora apriamo un po' questi pacchetti e poi vorrei fare una cosa un po' baggata aprivo un pacchetto da 50.000 speciali di Halloween e vabbè andiamo speriamo di trovare qualcosa qui che è un gettone stemma squadra porto qui che abbiamo invece oh che è toturno ah ok oggettone tottenham prendiamo qui con giocatori in forma abbiamo un londono in forma 61 che è questo 66 sundly andiamo con gol da urlo non so che da qui un gettone scherzetto dammi anche qua un gettone scherzetto gettone dolcetto va bene andiamo con B che cosa mi prendi in giro 92 cantè sul serio 91 mantovani 78 gordon 92 cantè che cosa che cosa no impossibile non ci credo ancora e sì 73 67 al via di 70 73 vada buono 74 yonita e maric ok cioè è pazzesco io non ci credo ora andiamo al negozio perché abbiamo questo io lo apro per voi questo pacchetto incredibile con tanti giocatori abbiamo 58 88 di hop 81 carius oh mio dio che che video pazzesco ma sul serio cioè ma ma vi rendete conto di che mi ha dato oggi cioè voi ve ne siete accorti che mi ha dato un attimo al mercato giusto per farle vedere abbiamo un cantè 92 un mantovani 91 un dioppo 88 un carius 81 il gioco mi prende in giro e io vado subito quindi alla squadra con cambiare un no mandanni no mandanni no lui no uride ok va andiamo qui abbiamo già fatto tutto in attacco centro campo lui cantè 92 il gioco mi prende veramente in giro cdc abbiamo dioppo e poi amiche no amiche no e vabbè ok ci siamo qui abbiamo quello zil bestia ma ora abbiamo giusto qualcuno più forte apriamo dopo perché ora voglio finire qua un attimo carius qua carius e aspetta me l'ha messo in automatico quello ce n'ho due no è solo uno penso che erano due che scanno che mi soppigliato vabbè abbiamo lui 91 carius 81 centro campo cantè 92 di oppo 88 e quindi cose troppo non lo so non lo so c'è è pazzesco la roba che mi ha dato non ci credo neanche io andiamo ai piani un attimo eeeh ah e si quanta ma che cavolo quanta roba che c'è qui ok abbiamo poi un rischioso ma c'è un mantovani a doppio andiamo qua con gettone schiacchetto continuo continua ma no vabbè quel mantovani non so come è possibile che ce l'ho a doppione invece è a doppione vabbè mille mantovani a mille non ve lo do il 91 lo sognate vai mettiamo prima un po' questi non so perché mi ha dato cioè il doppione così a caso e anche a te e io a te ti metto a 3000 almeno vai così dai ok 8 ore facciamo pubblica e ora voglio andare un attimo alla squadra però dovrei ancora avercelo mantovani certo vabbè se c'è ancora va bene poi abbiamo questi da mettere a 500 direi di qua a 700 ok 8 ore facciamo pubblica 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 qui abbiamo due if no tre ce ne stanno di if vai qui mo faccio un po' di cose bugate mettiamo a vendere questo vabbè subito in un secondo si non posso questo lo posso vendere no non voglio venderlo quelli me li metto e poi abbiamo questi da mettere a 100 e questo a 150 vabbè sarebbe lo stesso giocatore qua qua e qua ok va benissimo andiamo alla squadra naturalmente per far vedere lui tanti epic poi avevano sempre quello sì l'83 ma non è che 29 che mi prendo in giro potrebbe essere uno scherzo vabbè poi lui 88 questo 91 carius 81 cioè abbiamo fatto un devasto e quindi se vi è piaciuto questo nuovo video di fifa mobile iscrivetevi e lasciate un like ci vediamo ciao a tutti